Fino a mercoledì l'Italia continua ad essere esposta ad un flusso di correnti più fresche in quote in arrivo dei Balcani e quindi ancora una volta nelle ore pomeridiane si andranno a sviluppare temporali sui settori alpini, la dorsale appenninica e le zone interne delle isole maggiori con rovesci temporalesi che a tratti sconfineranno verso l'alta Valpadana, il medio-basso versante tirrenico e i settori ionici. Ci sono però buone notizie, infatti tra giovedì e venerdì una pausa con una rimonta dell'alta pressione, riporterà il bel tempo su gran parte d'Italia con attenuazione dei temporali e addirittura nel corso del fine settimana un'ondata di caldo interesserà soprattutto le regioni del centro-sud con temperature che supereranno a tratti anche i 35 gradi sulle pianure interne del meridione. Intanto sempre nel corso del weekend al nord-ovest arriveranno nuovi rovesci e temporali. Per ulteriori dettagli